Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense, tante le novità. Parleremo del processo sulla morte di Denis Bergamini, il PM ha chiesto 23 anni di reclusione per l'ex fidanzata, un caso del calciatore argentano mai risolto ormai nel corso di diversi decenni. E' stato riaperto il caso e adesso questa richiesta, quindi parleremo a breve di questo caso irrisolto ma parleremo anche ovviamente di alluvione e della situazione che si sta vivendo nel Ravennate ma anche nell'argentano a Campotto dove si registra la situazione più difficile per quello che riguarda il ferrarese. Poi parleremo di politica, di economia, di come sta cambiando la città di Ferrara dal punto di vista degli ingressi nella città e poi spazio agli eventi diversi, quelli che caratterizzeranno il prossimo fine settimana. Partiamo appunto dall'alluvione, la regione Emilia Romagna ha inviato la richiesta di stato di emergenza nazionale dopo l'incontro tra la Presidente del Consiglio, Giorgia Meroni, e la Presidente facente funzioni della regione Emilia Romagna, Irene Priolo, sabato mattina. Ci sarà l'incontro del Consiglio dei Ministri per affrontare la questione, la Premier però ha già anticipato che il governo è pronto a stanziare 20 milioni di euro per l'Emilia Romagna. La Presidente Priolo intanto venerdì ha fatto il punto della situazione, come detto nel ferrarese c'è attenzione per il passaggio della piena del Reno, soprattutto ad Argenta e a Campotto. Come detto si registrano alcune persone sfollate, anche a Cento è alta l'attenzione, ma nel Ravennate si registrano le situazioni più critiche. Sentiamo. I punti fondamentali sono quelli che avevamo già individuato ieri, quindi Lugo dove sapevamo che sarebbe arrivata l'acqua da Cotignola e appunto Bagna Cavallo nella frazione che ha avuto la rottura del Lamone. Quindi possiamo dire che è stato un evento importante ma circoscritto e questo ci aiuta anche nelle operazioni di soccorso che sono praticamente terminate ma soprattutto di ripristino e di ritorno alla normalità. Quindi abbiamo già iniziato a lavorare con le colonne mobili regionali e nazionali. In questo momento per esempio a Lugo ci sono già 80 volontari della colonna mobile della Toscana per aiutare l'amministrazione nella più rapida azione per provare a pulire le case immediatamente. Se interveniamo prima anche il danneggiamento si riduce moltissimo per i cittadini che ovviamente sono sconvolti e colpiti. Affirmo oggi la dichiarazione di stato di emergenza, l'ho concordato ieri con il capo dipartimento quindi in queste ore ovviamente ero impegnata a fare queste attività e a seguire firmerò la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza. Ovviamente abbiamo alcune realtà come a Faenza dove i cittadini avevano già avuto e questa è la terza alluvione che hanno. Per cui secondo me c'è anche molto scoramento e noi dobbiamo provare ad essere capaci di dargli anche come regione rapidamente un supporto. Se in questo anno e mezzo magari ci sono stati dei momenti dove non siamo riusciti a correre velocemente dobbiamo farlo di più e in questo momento. L'alluvione che ha colpito ancora una volta la Romagna ha messo in moto oltre alla macchina dei soccorsi anche riflessioni sul fenomeno che ha messo in ginocchio. Ancora una volta questa parte della regione, riflessioni che sono state fatte nell'ambito di Remtec nelle scorse ore, la fiera che si sta tenendo a Ferrara in cui l'Associazione Nazionale Bonifiche Ambi e il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara hanno fatto il punto. Sono giorni di grande preoccupazione lungo tutta la penisola per il ciclone Boris che dopo aver devastato l'Europa continentale, alluvioni in otto stati e 21 vittime, ha raggiunto l'Italia e creato quanto successo sotto gli occhi di tutti, soprattutto in Romagna. Come evidenza all'Osservatorio dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche sulle risorse idriche, le conseguenze sull'Italia sono evidenti, il livello dei fiumi è rapidamente salito provocando numerose tracimazioni. Bisogna imparare a non essere solo in balia degli eventi ma ridurne il danno, dicono dall'Ambi, del corso di un incontro giovedì a Remtec in fiera a Ferrara, incontro voluto anche dal Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara. L'Associazione Ambi poi aggiunge, al di là delle polemiche sugli errori del passato e sulla farraginosità attuale, in attesa dei finanziamenti per ridurre il rischio idrogeologico e dei tempi necessari a realizzare le opere, il succedersi delle emergenze dimostra che c'è necessità di una diffusa coscienza di prevenzione civile, dicono dall'Ambi. Cronaca giudiziaria, adesso 23 anni di reclusione, questa la richiesta di condanna avanzata dai pubblici ministeri della procura di Castrovillari in Calabria, nei confronti di Isabella Interno, l'ex fidanzata del calciatore del Cosenza argentano di nascita, Dennis Bergamini, morto il 18 novembre del 1989, lungo la statale 106, a Rosetto Capospulico. La donna è accusata di omicidio volontario in concorso con ignoti e lo è davanti ai giudici della Corte d'Assise di Cosenza. Questa è la richiesta formulata dal PM Luca Primicerio, affiancato dal procuratore di Castrovillari Alessandro D'Alessio, a conclusione della requisitoria iniziata giovedì, finita venerdì e con la richiesta appunto di questa condanna, l'imputata era assente. Ora si attendono la difesa che interverrà la prossima settimana anche le parti civili e poi il primo di ottobre è attesa la sentenza di questo procedimento che è stato riaperto appunto sulla morte del calciatore di argenta, Dennis Bergamini. E ora cambiamo totalmente argomento. A una storica dipendente del Teatro Comunale di Ferrara non è stato rinnovato il contratto a tempo determinato che per una trentina di anni l'ha legata alla Fondazione. Una decisione che ha spinto la CGL a chiedere incontri chiarificatori al CDA del teatro che il nuovo CDA si è insediato nelle scorse ore, ma ha incontri anche all'assessore della cultura e al sindaco di Ferrara, lei è Morena Morelli e si occupava di diversi progetti per l'attività del teatro. Venerdì mattina in conferenza stampa in Camera del Lavoro in Piazza Verdi e lui Morelli ha parlato insieme ai sindacalisti spiegando come è arrivata questa situazione e soprattutto come è stata accolta. Quando si fa una riorganizzazione in genere si prende il servizio che non funziona, si ridistribuiscono delle mansioni, al limite si potenzia una cosa, ma non si lascia a casa una persona, soprattutto se a quella persona non è mai stato detto guarda che qui ho sbagliato, guarda che non hai lavorato bene. Poi non ultima, io non posso fare a meno di pensare che è quello che rappresento anche per i miei colleghi, io sono un RSU da 18 anni se non sbaglio, quindi mi spiace però mi sembra quasi evidente che è un po' mirata. A me quello che dispiace di più, lo dico sinceramente, è appunto aver lasciato da parte della direzione del teatro tutto allo sbando, c'è tanto pubblico che va in biglietteria perché è il front office, quello che è sempre aperto, chiedendo che cosa è successo, perché non c'è più quella figura, a chi si devono rivolgere, ad oggi non c'è una persona che fa da collegamento fra il pubblico, associazioni, scuole eccetera e la programmazione o l'organizzazione di altri eventi. Noi abbiamo immediatamente fatto una richiesta di incontro alla Fondazione Teatro Comunale e la Fondazione Teatro Comunale ci ha risposto in settembre, noi l'abbiamo presentata in agosto, il 6 di agosto e la Fondazione ci risponde a settembre, dicendo chiaramente, gli abbiamo esposto tutti i fatti e la nostra posizione rimane quella, noi siamo precari per cui non possiamo darvi altre situazioni. Abbiamo chiesto un incontro di conseguenza all'assessore alla cultura del Comune di Ferrara, ovviamente è arrivata una disponibilità da parte del CdA, intanto in questo momento la richiesta di incontro all'assessore è ancora in evasa, non ci ha risposto, quindi noi abbiamo deciso che comunque ci rivolgevamo al reale proprietario della Fondazione, che è il Sindaco, per cui abbiamo già richiesto anche un incontro al Sindaco a fine di chiarire un attimo tutte queste situazioni. C'è una grande solidarietà all'interno del Teatro Comunale su una situazione che io penso sia un grossissimo cortocircuito che qualcuno ha la responsabilità di aver messo in pratica, di aver messo in campo, e cioè di aver messo in una situazione abbastanza difficile, c'è una persona che da 30 anni ha svolto il suo lavoro con coscienza ed è testimoniato dai colleghi che sono qua. Quello che noi puntiamo, e vorrei che fosse chiaro, è la ricollocazione di questa nostra compagna, collega, Morena, che oggi non è stata assunta per la stagione teatrale 24-25. Ovviamente non possiamo stare fermi perché già i lavoratori ci hanno dato un mandato pieno ed esplicito a qualunque forma di mobilitazione. Abbiamo deciso di agire con assoluta gradualità e ragionevolezza, anche perché siamo ancora in attesa di un incontro con il Sindaco che speriamo sinceramente che sia risolutivo. Quindi al momento noi riteniamo questo un errore risolvibile, un errore però grave. Cambiamo adesso argomento, passiamo alla sanità, al via a cento il progetto di stimolazione cognitiva. Le istituzioni hanno risposto all'appello della giornata mondiale dell'Alzheimer e grazie all'associazione Francesco Mazzucca, al Comune di Cento e all'azienda ASL di Ferrara è stato dato vita a un nuovo progetto di stimolazione cognitiva per persone con disturbo neurocognitivo minore o maggiore, stadio lieve. È stato definito totalmente il progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. Il progetto è stato presentato venerdì, dal 1 ottobre partirà il percorso di stimolazione cognitiva che attraverso una serie di esercizi strutturati mira a potenziare e a mantenere le funzioni cognitive come ad esempio linguaggio, memoria e attenzione con lo scopo di promuovere il più a lungo possibile l'autonomia personale aumentando così il benessere percepito della persona e migliorando, è stato detto, la qualità di vita del paziente. E adesso torniamo in città per parlare dell'accesso alla zona est di Ferrara entro settembre la conclusione degli interventi su strada entro la fine dell'anno conclusi anche i lavori sulle mura questo il progetto del comune, progetto PNRR da un milione e mezzo di euro. Si sta concludendo quella parte del maxiprogetto di riqualificazione dell'accesso est di Ferrara che riguarda più specificatamente le vie di percorrenza dopo aver proceduto alla fresatura stradale già completata lunedì notte e attualmente in corso l'asfaltatura con termine previsto visto il matempo all'inizio della prossima settimana gli interventi alle strade realizzati di notte hanno reso possibile la circolazione regolare già a partire dalle 6 del mattino con modifiche temporanee alla viabilità e deviazioni in vie parallele solo nelle ore notturne parte degli interventi sono già stati conclusi quando saranno concluse le opere stradali si procederà alla realizzazione dell'isola centrale con uno spazio verde indicativamente entro ottobre verrà completata la parte inferiore delle mura e dentro metà novembre salvo imprevisti verranno realizzate le ultime opere accessorie il costo complessivo del progetto di riqualificazione dell'accesso est di Ferrara ammonta un milione e mezzo di euro finanziati interamente con fondi PNRR rimaniamo in città ci spostiamo a Petrochimico dove Versalis informa che martedì mattina prossimo verrà effettuata una simulazione di emergenza nel polo del petrochimico di Ferrara che coinvolgerà il personale e l'esercitazione allo scopo di verificare il sistema di gestione dell'emergenza simulando un incidente e sarà provata l'efficacia dei sistemi di comunicazione all'interno dello stabilimento e anche un sistema di comunicazione alle autorità competenti saranno attivate anche le sirene dicono da Versalis che aggiungono questo non deve preoccupare spaventare la cittadinanza perché si tratta di una esercitazione che ricordiamo si tiene martedì mattina prossima e ora parliamo di un addio quello che avverrà da sabato al check in online per chi ha acquistato un biglietto dei treni regionali in versione digitale e non cartacea è una novità che interessa migliaia di viaggiatori anche ferraresi sentiamo una buona notizia per tutti i pendolari e i viaggiatori dei treni regionali da sabato 21 settembre addio al check in online per chi ha un biglietto digitale trenitalia ha deciso di tornare indietro sulla sua scelta molto criticata dagli utenti di rendere obbligatoria la validazione digitale dei biglietti il check in online era stato introdotto nell'agosto dell'anno scorso con l'obiettivo di aumentare la flessibilità dei biglietti raccogliere dati sui viaggiatori tuttavia questa novità aveva suscitato numerose proteste da parte degli utenti che lamentavano la complessità della procedura i frequenti malfunzionamenti dell'app e l'impossibilità di effettuare il check in in essenza di una connessione internet stabile quindi d'ora in poi il biglietto digitale si validerà automaticamente all'orario di partenza programmata del treno la flessibilità dei biglietti rimane invariata potrete la flessibilità dei biglietti rimane invariata si può cambiare data e ora del viaggio fino al giorno precedente la partenza e l'orario del biglietto potrà essere modificato liberamente nel giorno della partenza e passiamo adesso agli eventi presentata alla tappa ferrarese della 34esima edizione del gran premio nuvolari dedicato alle auto storiche in programma in piazza riostea il 22 settembre prossimo ovvero domenica la partenza è fissata ed è iniziata venuta venerdì da mantova e finirà appunto dopo mille chilometri il passaggio atteso nella città estense il 22 settembre le tappe ufficiali sono modena pistoia arezzo e rimini complessivamente disputeranno i nuvolari 300 equipaggi di cui metà provenienti da paesi esteri equipaggi che partecipano sono anche diversi i ferraresi e a proposito di appuntamenti ferrara celebra l'anniversario della nascita di michelangelo antonioni tra circa una settimana il suo uno dei suoi cittadini più illustri scomparso nel 2007 il maestro il regista è ricordato in diverse occasioni e lo è anche stato fatto con l'intitolazione e la dedica del pack dello spazio antonioni in città e l'iniziativa in ricordo della nascita dell'anniversario della sua nascita viene fatto con diverse iniziative quali le sentiamo domenica 29 settembre ferrara celebra l'anniversario della nascita di michelangelo antonioni con due iniziative speciali l'ingresso gratuito per tutta la giornata allo spazio antonioni aperto fino a 19 30 e la sera poi all'ex refettorio di san paolo la proiezione del film il deserto rosso a 60 anni dall'uscita del film leone odoro al festival del cinema di venezia la proiezione sarà introdotta dal saluto dell'assessore alla cultura marco culinelli e da una presentazione di enrica fico antonioni michele placido leggerà alcune lettere inedite del regista tonino guerra amico e sceneggiatore del deserto rosso l'evento in programma per le 20 e 30 con inizio della proiezione alle 21 è ingresso libero fino a esaurimento posti ed è organizzato in collaborazione tra comune e cine città un'occasione per riscoprire e apprezzare la sua straordinaria arte ha sottolineato l'assessore alla cultura gulinelli e a proposito ancora di eventi sabato alle 19 30 ferrara avranno inizio le esibizioni nel centro cittadino della seconda edizione del ferrara gospel free hands evento di musica gospel che riunirà nella città estense più di 100 partecipanti provenienti da tutta italia e che avrà il suo culmine nel concerto che si terrà domenica 22 settembre alle 18 e 30 nella chiesa dell'immacolata nel piazzale dante di ferrara l'iniziativa è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa in municipio venerdì mattina vedete i partecipanti appunto alla conferenza stampa che hanno presentato questa seconda edizione del ferrara gospel e con questo appuntamento di musica è tutto io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale di telestense e vi ringrazio per l'attenzione e vi ringrazio per l'attenzione e vi ringrazio per la